Contro l'Ascoli, KO rovinoso il nono all'Adriatico dall'inizio del campionato, numeri da brividi. Questa volta Grassadoni ha sbagliato scelte strategia. Male la fase di non possesso, i Biancazzurri hanno concesso troppo, la difesa ha ballato, fino all'espulsione di Scogna e Miglio, ospiti sempre in superiorità. Per caratteristiche il Pescara non può interpretare le gare in chiave offensiva. Lo diciamo da una vita, nel match più importante non c'è stato ordine tattico. Squadra senza equilibrio, limiti altresì evidenti nella costruzione del gioco. La retroguardia 4 con un giocatore in più tra centrocampo e attacco non ha portato benefici, sempre in difficoltà nell'uno contro uno. L'atteggiamento fondamentale non è mai dettato dai freddi numeri di un sistema di gioco. A rilevare sono sempre la compattezza e naturalmente le caratteristiche dei giocatori. Compattezza che contro l'Ascoli è venuta meno, distanze tre reparti non rispettate. Paradossalmente meglio in dieci che non in parità numerica. Reazione nervosa significativa, addirittura il sorpasso doppietta di De Sena in avvio di ripresa. L'ingresso di Setter una buona idea, col colombiano si è cercata di più la verticalità della manovra. Sul 2-2 invece, a cinque minuti dal termine, è sembrato assai azzardato sostituire un centrocampista di corsa a interdizione come Busellato con Macin che non è il massimo per così dire della disciplina tattica. Ok, il guineano ma al posto di un attaccante, per esempio Odgaard, che aveva speso tanto. Grossadonia insomma non si è accontentato e ha pagato Dazio. Provare a vincere sì, ma in undici e non in dieci, a pochi minuti dalla fine, precisamente otto recupero compreso. Senza dubbio un errore contro una diretta concorrente. A partire dalla disastrosa gestione Oddo, il gioco non si è mai visto. Con una difesa a quattro per lo sviluppo della manovra diventa determinante il play. Non può essere di certo Busellato che altre peculiarità. Il limite della sfida con Lascoli è stato anche questo. Con una difesa a cinque, che a nostro avviso resta la più congeniale alle caratteristiche della rosa. Puoi anche decidere di giocare direttamente sugli esterni senza passare per il centrocampo. Questa volta sì, Grossadonia se ne è giocata male. Playout a cinque lunghezze, ma davanti ci sono tre squadre. Ascoli, Cosenza e Reggiana. Sabato prossimo, ore 14, Biancazzurri renderanno visita alla Vicenza, che in casa ha vinto appena due volte, proprio come il Delfino. Ma l'undici di Mimmo Di Carlo ha ben altra classifica.